Bambini, la fila in fondo, voltatevi per favore Io sono Nicolà, ho otto anni e voglio raccontarvi la mia vita Prima c'è la nostra maestra Eccolo, voglio che siate esemplari No, seduti, seduti In piedi Seduti E la supplente Silenzio! E poi c'è anche il gufo Che è il nostro bidello Dietro, pronto! Cos'è questa roba? Ho detto in fila per due! Vuole essere guardato negli occhi Guardami bene negli occhi Siete la vergogna della Francia! Ma soprattutto gli piace punirci Propongo di fargli ricopiare 300 volte Non devo imbrattare con scritte ignominose i muri del mio edificio scolastico Luogo dedicato all'educazione e all'elevazione spirituale Secondo i valori repubblicani Fino a edificio scolastico andrà bene Quello che posso dire è che la mia vita è bellissima E non voglio che cambi No, a tutti No, a tutti Consciotti